Buonasera, vediamo quali sono i titoli di oggi. I carabinieri arrestano i tre componenti della banda dei supermercati, agivano con pistola e passamontagna. La polizia ha arrestato il rapinatore del McDrive, incastrato dalle scarpe sgargianti. Piano balneazione, nuovo intervento per Viserbe e Rivabella, che coinvolgerà anche i privati. Prezzi forfettari per allacci in accordo con ERA, il gestore della rete. È andata un po' meglio rispetto agli ultimi giorni, ma anche questa mattina le strade riminesi hanno fatto i conti con il traffico diretto al SIGEP, che si chiude domani. Ospedali a rischio, Cattolica, Sant'Arcangelo e Nova Feltria temono declassamento, ma il sindaco di Nova Feltria è tranquillo, si terrà conto del contesto territoriale. Problemi con le finestre e con la sicurezza? Se vuoi andare sul sicuro, non rischiare! Chiedi una soluzione agli specialisti della Navacchi Infissi, al servizio del cliente da oltre cent'anni. Approfitta anche del risparmio fiscale fino al 65%. Della Navacchi Infissi ti puoi sempre fidare! Ben ritrovati in studio. I carabinieri di Riccione hanno arrestato una banda di rapinatori di supermercati. Sono stati bloccati sabato a Morciano, prima dell'ultimo colpo al Conad di via Abbazia. È probabile che possano essere gli autori anche di altre sette rapine messe a segno in provincia negli ultimi mesi. Agivano armati di pistole, giocattolo, ma molto simili agli originali e con il volto coperto da passamontagna seminavano il terrore tra i clienti e i dipendenti dei supermercati. I carabinieri hanno arrestato la banda sabato alle 19.20, mentre stava entrando nell'ultimo supermercato preso di mira, il Conad di via Abbazia a Morciano. In carcere sono finiti un 21enne cattolichino e un 29enne salernitano, entrambi pregiudicati. Un 23enne morcianese, il basista, è ai domiciliari. È certo che i primi due siano anche gli autori della rapina del 14 gennaio al Conad di Cattolica, derubato due volte in 20 giorni. In quel caso, subito dopo il colpo, si erano tolti il giubbotto e rimasti in tutta da ginnastica erano scesi dall'auto fingendo rifare jogging. Non si esclude siano gli autori anche di altre rapine. Ormai in provincia di Rimini, erano già qualche mese che vivevamo questo terrore, o meglio, i clienti dei vari supermercati vivevano questo terrore di essere in qualche modo o presi ostaggio o comunque rapinati da questa banda. Noi per adesso siamo riusciti a contestargli queste due rapine. Stiamo lavorando, d'intesa, con l'etaro giudiziaria per provare a capire se sono gli autori delle altre rapine avvenute in provincia di Rimini. Sabato i carabinieri, una ventina, quelli impegnati nel blitz, si sono messi sulle tracce della banda e hanno trovato l'auto, una punto blu già usata cattolica e risultata rubata parcheggiata vicino al supermercato. Da una casa vicina, affittata dal morcianese, i tre controllavano il supermercato in attesa del momento meno affollato. Il morcianese è entrato anche per acquistare della birra e verificare così l'eventuale presenza di guardie. Ad agire concretamente sono stati gli altri due. Quando sono stati bloccati stavano scendendo dall'auto con già indosso il passamontagna impugno la pistola. Il basista è stato ammanettato nell'appartamento dove coltivava anche una piccola piantagione di marijuana. Le indagini hanno preso una svolta dopo il colpo di cattolica in cui era stato preso in ostaggio un dipendente. Un testimone addirittura ha fornito un abbreviativo di un nome Cesco che c'è da lì. Siamo risaliti a un Francesco e poi le nostre attività di indagini e di conoscenza dei personaggi pregiudicati della provincia ci hanno permesso di risalire ai rapinatori arrestati nella giornata di sabato. Hanno anche in un'occasione preso in ostaggio una persona e questa persona ha avuto per qualche minuto la pistola puntata alla tempia. Ed è stato arrestato nella notte un 45enne pesarese che ha tentato di rapinare con un coltello da cucina il McDrive sulla statale poco lontano dalla caserma dei Vigili del Fuoco. L'uomo con numerosi precedenti agiva tra il pesarese e il reminese. È finito in manette il malvivente che ieri sera ha tentato di rapinare il McDrive sulla statale poco dopo il centro commerciale Le Befane. L'uomo è entrato nel locale, ha volto scoperto, celato solo da un cappuccio, si è avvicinato alle casse e con un coltello da cucina portato da casa ha minacciato le commesse. Fondamentale la reazione delle due ragazze, un indiano e un'ucraina, che sono riuscite a far passare secondi preziosi dicendo al rapinatore che non era possibile aprire le casse senza un ordine da parte di un cliente. Sono state brave le commesse nel temporeggiare quel tanto che è bastato alla persona per desistere dal suo atto, quello di compiere appunto una rapina armato di coltello e poi c'è stata la successiva anche fortuna diciamo nella descrizione di un dettaglio che ci ha permesso di individuare la persona sulla base della descrizione delle scarpe da ginnastica che avevano questo colore evidentemente insomma non solito, viola e verde. L'uomo, 45enne nulla facente di Pesaro, è poi fuggito a piedi ed è stato fermato poco dopo in via Varisco. Nel frattempo si era disfatto del coltello, poi recuperato gettandolo nel giardino di una casa. Il pesarese è riconosciuto dalle giovani e già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati. La polizia sta anche cercando di capire l'origine della vistosa ferita alla testa che l'uomo si era procurato ancora prima di entrare nel locale da rapinare. Voltiamo pagina per parlare del piano di salvaguardia della balneazione. Il lavoro procede a pieno ritmo anche se i cittadini spesso non lo vedono. Lo assicura l'amministrazione comunale che annuncia la partenza di un nuovo intervento sulla rete separata di Rimini Nord che coinvolgerà anche i privati. E per calmirare le spese dei cittadini è stato messo a punto un accordo con ERA, il gestore della rete. Vediamo. Dopo quelli per Rimini Isola, la dorsale Nord e il raddoppio del depuratore di Santa Giustina, il comune di Rimini apre il quarto cantiere per il risanamento della rete fognaria, quello per eliminare gli scarichi nelle fosse Matrice, Sacramore e Turchetta a Rimini Nord. Tra maggio e giugno saranno poi appaltati i lavori per il primo stralcio della dorsale Sud nell'ambito del progetto esecutivo del piano città per collegare alla nuova vasca di laminazione dell'ospedale le reti dal Parco Cervi a nord e dal ghetto turco a sud. A marzo ci sarà anche l'appalto per la riconversione del depuratore marechiese in vasca di accumulo. Tra quelli in corso e in partenza, i lavori coprono il 49% del totale previsto, muovendo 75 milioni di euro. So che non hai fatto in 60 anni, noi abbiamo detto la verità, non lo fai in due mesi, ci vorranno step di 2, 3, 5, 6, 7 anni per avere la risoluzione del problema degli scarichi a mare. Stop agli scarichi a mare. L'obiettivo è un cronoprogramma per arrivare al 2016 all'abbattimento del 60% degli scarichi inquinanti a mare in caso di forti piogge. L'intervento tra Viserbe e Riva Bella riguarda un migliaio di immobili chiamati a comunicare lo stato dei loro scarichi e, se necessario, allacciarli alla rete separata. 310 quelli interessati dalla prima fase lungo la Sacra Mora in questi giorni riceveranno le comunicazioni. Entro il 30 aprile andranno presentate le richieste di autorizzazione per i lavori da eseguire. Poi entro luglio, un altro mese, per comunicare l'avvenuto intervento. Comune e Dera hanno stipulato un protocollo che prevede prezzi forfettari sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori. Per l'autorizzazione e i lavori su area pubblica le spese di un'abitazione privata possono scendere da 1.100 a 300 euro. I cittadini sono comunque liberi di scegliere il servizio proposto o rivolgersi a geometri e idraulici a loro scelta. Oltre a una mail e a un numero dedicato, a febbraio ci saranno anche assemblee informative. Un protocollo che permette di fatto di ridurre i costi anche di realizzazione del progetto, quindi in questo caso noi andremo ad abbattere considerevolmente quelli che sono i costi per il privato cittadino per l'allaccio. I tempi sono adeguati quindi anche alla realizzazione degli interventi e contiamo che entro l'estate del 2016 quelle tre fosse di fatto non scaricheranno più acqua sporca ma di fatto solo ed esclusivamente acque bianche. Buone notizie per i lavoratori della Full Management di Via Corriano. Nell'incontro che si è tenuto stamattina in prefettura ci sono state aperture da parte dei vertici dell'azienda tra i quali l'amministratore delegato Florenzano da parte del Consorzio Artigiani Romagnolo e dalle quattro banche presenti che hanno promesso entro il fine settimana o al massimo agli inizi della prossima il pagamento di una mensilità delle retribuzioni arretrate. Nelle immagini stiamo vedendo un gruppo di lavoratori che questa mattina si è dato proprio appuntamento davanti alla prefettura mentre si stava svolgendo la riunione. Ricordiamo che i lavoratori della Full Management sono senza stipendio da sei mesi. I sindacati CGL e CISL si sono detti per il momento soddisfatti e domani alle 15 in provincia con l'assessore alle politiche del lavoro Meris Soldati firmeranno l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per 33 lavoratori. Cassa straordinaria che sarà attiva dal giorno successivo quindi da giovedì. I lavoratori erano 50 nel frattempo 17 si sono licenziati. La società Valle Verde SRL insieme ai dipendenti chiede al Tribunale di Rimini di sospendere il sequestro dello stabilimento di Coriano e dei punti vendita deciso dal curatore fallimentare. La Valle Verde SRL subentra dopo il fallimento della SPES. Lo scorso giugno ha presentato un'offerta per continuare la gestione non ritenuta congrua dal Tribunale. Ci sono possibili acquirenti tra cui la stessa Valle Verde SRL questa volta consociata con altre imprese le cui manifestazioni di interesse sarebbero però vanificate dalla convalida del sequestro da parte del Tribunale. Un altro settore in agitazione è quello della pesca. Dopo tre giorni di tensione i 30 uomini degli equipaggi delle sei barche riminesi specializzate nella pesca del pesce azzurro hanno deciso di sospendere lo sciopero iniziato ieri. La serrata era legata all'incertezza della retribuzione che spiega la Fly CGL in questo settore dipende dagli utili di impresa e non dalle ore lavorate. I lavoratori mediamente prendono un migliaio di euro al mese circa 3-4 euro l'ora. Retribuzione però che negli ultimi tre mesi del 2013 era venuta a mancare. A scongiurare la prosecuzione dello sciopero la promessa da parte degli armatori di saldare il minimo retributivo dell'ultimo trimestre e la promessa di confrontarsi con lavoratori e sindacati promessa che dovrà essere formalizzata entro martedì prossimo fino a quel giorno. Quindi i pescatori torneranno in mare. È andato un po' meglio rispetto agli ultimi giorni ma anche questa mattina le strade riminesi quelle in zona fiera ma non solo hanno dovuto fare i conti con il traffico diretto al SIGEP. Per i riminesi ci sarà da appazientare ancora un giorno infatti la manifestazione che quest'anno ha inglobato anche il Rex si chiude domani. Anche questa mattina il traffico in direzione fiera è stato intenso. Un po' meglio rispetto ieri grazie anche alla più diffusa presenza degli invocati vigili urbani a presidiare strade e incroci ma sempre con code e rallentamenti per buona parte della mattinata. Sul lungomare il semaforo del ponte di Via Coletti dove si viaggia a senso alternato ha creato code in entrambe le direzioni. Quella in ingresso alla città questa mattina arrivava a Viserba. Code anche in centro in direzione dei bastioni settentrionali. Intanto la città come sempre si divide. Sui social network in molti lamentano il traffico e parcheggi selvaggi nelle strade intorno alla fiera. Altri, come ha ricordato oggi anche il sindaco Gnassi sottolineano invece l'indotto che le manifestazioni fieristiche portano a Rimini. Ha fatto discutere anche il costo del parcheggio giornaliero per la fiera a 12 euro. In linea però hanno ricordato alcuni addetti ai lavori con le principali fiere nazionali. Domani con la chiusura del SIGEP l'ultimo giorno di stress da fiera per il traffico cittadino ma ci sarà anche il mercato. Altre lunghe code quelle però al CAF del comune di Rimini per la Mini-IMU. Le rassicurazioni arrivate anche ieri dall'assessore Brasini non sono bastate a fugare le incertezze e per molti riminesi nel dubbio è meglio pagare ora. La conferma arriva anche dalla direttore del CAF ACLI. Il pagamento della Mini-IMU continua a creare problemi e nei CAF di Rimini le file allo sportello si allungano. Non sono bastate infatti le rassicurazioni del comune che attraverso una delibera di giunta ha precisato che benché resti ferma alla scadenza del 24 gennaio non ci saranno sanzioni per chi pagherà entro il 16 giugno. I riminesi tenuto conto che l'imposta non è molto alta e per evitare di avere problemi in futuro la maggior parte sta versando entro i termini. Potremmo avere almeno l'85-90% delle persone che riusciranno con difficoltà ma a versare entro i termini. Io sono convinto che quello di alcuni comuni proprio qui della Romagna perché abbiamo un monitoraggio a livello nazionale non ce ne sono stati altri c'è stato anche un atto di coraggio ed è proprio un vero e proprio braccio di ferro quello che si è instaurato con il governo il sottosegretario Barrette è molto duro su questo secondo lui il comune può deliberare sulle aliquote non può deliberare sulla variazione delle date di scadenza. Le dico i cittadini su questa diatriba poi difficilmente vogliono entrare io credo che entro il 24 buona parte dei versamenti verranno effettuati. Da Conti una tirata d'orecchia al governo gli italiani chiamati a pagare sono ben 18 milioni e il via libera alla Minimu c'è stata solo il 9 gennaio è tecnicamente impossibile dice far pagare tutti e senza intoppi in soli 15 giorni ancora di più se ci si mettono di mezzo anche altri problemi a Rimini ad esempio il Cafacle ha spedito il 10 gennaio 11.800 avvisi ai propri clienti ma il grosso è arrivato solo tra ieri e oggi a pochi giorni dalla scadenza. Parliamo adesso di sanità ospedali a rischio declassamento tra i 25 su 61 totali presenti nella lista del direttore regionale della sanità Tiziano Carradori ci sono anche Sant'Arcangelo Cattolica e Nova Feltria ma il sindaco del centro dell'Alta Valmarecchia è tranquillo ha detto abbiamo già dato con i tagli e si dovrà tener conto delle nostre peculiarità territoriali Il problema è sempre quello delle risorse sono poche e vanno ottimizzate anche in ambito sanitario e così l'anno che segna il debutto dell'Aslunica della Romagna si apre con la preoccupazione per la lista stilata dal responsabile della sanità regionale della sanità regionale Carradori nella quale 25 ospedali dei 61 dell'Emilia Romagna vengono messi a rischio declassamento nella lista figurano tre dei cinque presidi riminesi Cattolica Sant'Arcangelo e Nova Feltria proprio su quest'ultimo l'Alta Valmarecchia aveva chiesto e ottenuto più volte delle rassicurazioni sul futuro del presidio si dice ottimista il sindaco Marani primario proprio al Santa Famiglia forte di un concetto espresso dallo stesso Carradori nel ridisegnare la mappa degli ospedali non si userà lo stesso metro su tutto il territorio saranno conto dei contesti cioè delle peculiarità per cui potrò dire con assoluta certezza che non è possibile paragonare per dire Nova Feltria con Cattolica nel senso che Nova Feltria si trova a una distanza degli altri ospedali in tempi di percorrenza di oltre 45 minuti nella buona stagione con strada agibile nei mesi invernali i tempi si allungano poi si fa la nere e diventano tempi biblici quelli che potrebbero essere eliminati sono i doppioni sono le sovrapposizioni che a volte possono essere inutili anche perché come detto anche dall'ex direttore dell'asla di Rimini Tonini l'ospedale di Nova Feltria negli anni ha già dato in termini di tagli sono stati chiusi ostetrici e ginecologia e ridimensionati il laboratorio analisi e la chirurgia abbiamo già la dimensione corretta dice Marani quello che c'è adesso è un 118 di cui tra l'altro non ci sono in un momento di ristrutturazione abbiamo un reparto di medicina che penso svolga la sua dovuta funzione perché non si può pensare che un cittadino di Stavalle vada a assistere il proprio paziente il proprio familiare a un'ora e mezzo di macchina un servizio di radiologia e di servizi che permettano di fare gli agnosi sono indispensati per cui ritengo che non debba essere tolta nulla perché nel momento in cui venisse tolta qualcosa soprattutto l'efficienza avrete in qualche modo a risentirle siamo ai 100 secondi per i danni subiti dalle aziende agricole in seguito al nevone del 2012 la provincia di Rimini ha disposto la concessione di circa 240 mila euro di contributi l'85% sarà rivolto al ripristino delle coltivazioni di olivi tra le più compromesse il resto andrà alla ristrutturazione di strutture a uso agricolo come capannonio stalle hanno portato via la macchinetta cambiamonete di una sala giochi in via San Salva ad oratore Pedrera caricandola sull'auto i ladri questa mattina alle 3 hanno sfondato col veicolo la porta sul retro del locale e agito indisturbati 10 mila euro il bottino in porto da verificare il direttivo provinciale del PD di Rimini ieri sera ha ribadito la difesa compatta di Palace e Fiera nei confronti di quelli che sono definiti attacchi strumentali delle minoranze le infrastrutture hanno contribuito a rendere competitivo il territorio preoccupazione per l'aeroporto per il quale si punta il dito sull'inadeguata gestione economica intanto tra le infrastrutture in discussione entra anche il 105 Stadium Tamburini del 5 Stelle interrogerà sulla struttura costruita a fini sportivi con tanto di contropartita immobiliare e oggi affidata in convenzione per ospitare eventi di tutt'altro tipo domani alle 21 in Sala Manzoni via 4 novembre ci sarà l'evento Rimini Fora Africa la serata di benedicenza dedicata alla dottoressa Marilena Pesaresi medico missionario in Zimbabwe da 50 anni alla guida dell'ospedale Guidotti di Mutoko la serata con musiche del coro africano Rimini e testimonianze di amici e collaboratori è promossa dall'ufficio missionario diocesano in collaborazione con la fondazione Marilena Pesaresi Onlus si svolge domani mattina nella Sala Congressi del Gros di Rimini il convegno Sistema Romagna appunti per una politica di area vasta promosso da CISL lo spunto è una ricerca voluta dal sindacato che parte da alcuni dati economici e presenta idee per il rilancio del territorio Nel riminese il 56% della popolazione ha un reddito inferiore ai 20.000 euro il 17% non supera i 10.000 il dato emerge da un'indagine commissionata dalla CISL sulle 15.000 dichiarazioni dei redditi compilati agli sportelli riminesi del sindacato oltre 50.000 nelle tre province di Rimini Forlice, Senera, Venna dall'analisi emergono una serie di dati preoccupanti abbiamo un bacino di disoccupazione che è il più elevato di tutta la regione dentro questo sistema e dentro questa disoccupazione la componente femminile è molto importante questo studio ci dice che in tutta la Romagna i giovani laureati romagnoli hanno il 10% in meno di opportunità rispetto ai giovani emiliani e una cosa che ci preoccupa è quella che in tutta la Romagna ma anche su Rimini si sta ormai allargando la fascia dei lavoratori che raggiunge ormai i 40 anni in cui il reddito di queste persone è il 70% dei lavoratori che hanno fra i 54 e i 60 anni altro dato quello sulle pensioni il 53% di quelle riminesi sono sotto i 500 euro i redditi sono i più bassi della regione eppure i due terzi dei contribuenti dichiarano di possedere tra i due e i quattro immobili solo il 7% per lo più giovani hanno una sola casa questi ed altri dati saranno al centro domani del convegno sistema Romagna promosso dalla Cisla al centro convegni del Grosse dalla ricerca si partirà per offrire qualche valutazione per una politica di aria vasta che sappia dicono gli organizzatori rilanciare la competitività del sistema mettere a sistema tutto il mondo delle municipalizzate in tutta la Romagna nei 75 comuni della Romagna abbiamo visto che riducendo di un punto questo valore scritto bilancio si può risparmiare 13 milioni di euro si potrebbe facilmente raggiungere il 5% di riduzione che vorrebbe dire avere 65 milioni di euro da poter rinvestire rinvestire nel sociale per una maggiore occupazione e per far sì anche che i nostri comuni e tutta la macchina pubblica funzioni meglio e siamo arrivati al basket domenica scorsa la società basket Rimini Krebs dopo aver incassato la nona sconfitta consecutiva ha esonerato coach Paolo Rossi e ha affidato la squadra a coach Andrea Maghelli nel pomeriggio di oggi Maghelli che si era già seduto sulla panchina dei granchi come vice allenatore dal 2001 al 2004 ha diretto il suo primo allenamento al Palasport Flaminio e si è presentato alla stampa vediamo ho fatto qui a Rimini in particolare tre anni da assistente dal 2001 al 2004 al 2005 più o meno adesso è un po' che mancavo dalla città come allenatore Rimini è ormai diventata la mia casa perché la mia famiglia è qui a Rimini sì quindi sono contento di essere qui a lavorare per quella che in qualche modo è diventata la mia seconda casa mi è stato chiesto di prendere la squadra in questo momento ho accettato di farla quindi per me è una nuova partenza a prescindere da quello che è stato in passato credo che al momento bisogna cercare di comunicare un nuovo entusiasmo che inevitabilmente dopo in un periodo difficile è venuto è venuto a mancare quindi fondamentalmente io penso che il mio primo compito sia quello di provare a fare in modo che i giocatori abbiano un nuovo entusiasmo con ogni probabilità nei primi allenamenti questo succederà poi da domenica in poi dopo la partita si vedrà un po' che succede e per noi è tutto ma vi ricordo che questa sera alle 21.15 su Icaro TV c'è la prima delle sfide della campanella il gioco delle scuole in TV di fronte l'ITG Belluzzi da Vinci di Rimini e il liceo Volta Fellini di Riccione conducono Tello Melucci e Alessandro Valentini con la partecipazione di Deborah Paciello vi lascio alle previsioni del tempo grazie dell'attenzione dalla redazione buona serata Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.